Ok, via, appoggia bene la gamba, appoggia la gamba a destra e parti. Ok, questa velocità non più veloce di così, non dagli le speronate. Al centro devi rallentare e fare il piccolo, con calma. Bravissimo, piccolino. Passa bene al centro che poi ti devi fermare. Bravo, aspetta, spina a sinistra, due, gamba, uno, ok. La prossima volta ti fermi un po' più dritto, appoggia bene la gamba a sinistra per partire al galoppo, vieni una bella appoggiata, bravissimo. Questa velocità va bene, Michi. Così va benissimo, cura bene il piccolo e il rallenti. Ok. Ok. Cerca di fermarti bello dritto, eh, Michi, stai concentrato. Uno. Super. Con calma, appoggia bene la gamba a destra e andiamo a fare gli stop. piano. Pianino, vai pianino. Tutte e due le mani per rallentarlo un po', tira anche la destra, tira tutte e due le mani e rallentalo un pochino. Gira bene. Gira un po' di più. Così. Vai, Michi, vai, 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 fermalo. Roll back, via, bacio. Pianino, Michi. Guidalò bene, eh. Gira, 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 ok. Vai, 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 fermalo. Ebbic. Ok.